la prima è qua non la buttare via tu fai mi chiamo massimo decimo meridio no più pensata tu sei tu sei il numero uno dei soldati di roma cioè dove abiti tu a roma e a palermo sei di palermo si vabbè c'è una bella differenza uno dice di dove sei di palermo io sei roma senti già roma e quindi devi pensare questo capito mi chiamo massimo decimo meridio boom e quella già una caraccata che t'ho dato micidiale già lui lo vedi giochi in fenix col suo labbro liborino che rimane caparesi capito è tutto calibrato così ciao